Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 27 aprile 2022, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, come sempre leggeremo i giornali, daremo un'occhiata ai giornali in modo molto molto sintetico, a partire dal Corriere Adriatico e del resto del Carlino sulle pagine locali, comunque vediamo che sulle pagine nazionali ci sono notizie non certo rassicuranti, ora si parla addirittura in questa povera Europa di terza guerra mondiale, nessuno la vuole ma tutti la evocano, Cina, Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Mosca, avverte, siamo pronti a colpire l'Occidente e Putin svela che non ci sarà nessuna pace senza che la Crimea e il Donbass passino sotto il governo russo e chiude il rubinetto del gas a Polonia e Bulgaria che non vogliono pagare appunto questa fonte energetica in rubli, dunque la situazione non è affatto rassicurante, nonostante che il segretario dell'ONU abbia incontrato Putin per cercare di renderlo alla ragione, ma non c'è stato verso e Putin insiste nel perseguire i suoi progetti, quelli dell'annessione di parte del territorio ucraino. E poniamoci dunque sotto la protezione del santo del giorno, oggi abbiamo scelto tra i santi che si festeggiano il 27 aprile, Santa Zita di Lucca. Santa Zita di Lucca, la vediamo qui nella nostra grafica, Zita è una parola che deriva da città e in toscano vuol dire ragazza, ovvero Zittella, prestò servizio come domestica nella casa dei Fatinelli. Lei povera diede ai poveri quanto poteva, anche del suo, e nella sua vita non mancarono i miracoli. fu considerata il simbolo della generosità Santa Zita. Una volta la condizione di Zittella era una condizione indotta, ora invece è una libera scelta e tante, tante donne la effettuano perché ovviamente non vogliono sapere. E costituiscono un nucleo familiare monocellulare. Vediamo ora le previsioni del tempo. Vediamo che il tempo sulla nostra regione, lo vediamo qui nella grafica, eccolo, appare in condizioni di stabilità. Abbiamo soprattutto il cielo sereno prevalente, qualche nube appare all'orizzonte, salvo qualche piovasco pomeridiano confinato però sulle zone montuose. I venti ispireranno sulle coste da una direzione di nord e nord-ovest, mentre all'interno da una direzione di nord-nord-este. Le temperature varieranno dai 10 ai 16 gradi, ma anche quando è mezzogiorno ci saranno punte che arriveranno anche a livelli superiori. Insomma, i tempori primaverili cominciano a farsi sentire. Oggi apriamo il giornale per primo, abbiamo il Corriere Adriatico. Vediamo subito che grazie al bel tempo, ma soprattutto anche a diverse condizioni di carattere sanitario, sono iniziate le gite scolastiche. Tornano anzi le gite scolastiche, gite di istruzione, ma al massimo solo per tre giorni e solo all'interno del territorio nazionale. Insomma, gite lunghe di settimane, come si faceva una volta, si andava addirittura a Palo Alto in America, insomma, si girava tutta l'Europa. Ora ancora le condizioni non lo permettono, ma il fatto che si riprendano le gite, che sono dei momenti molto molto importanti nella vita di uno studente. Sono momenti di integrazione, di socializzazione, di istruzione, e poi la bellezza di vedere delle città d'arte veramente uniche, come sono quelle italiane. In partenza sono gli studenti delle scuole superiori fanesi, quelli del Polo III, quelli del liceo Torelli, quelli del liceo classico Nolfi-Apolloni. Insomma, tutti i ragazzi, le scuole superiori, potranno usufruire di questa bella iniziativa. Magari le prime classi di un giorno solo, si parte e si rientra in giornata. Invece le classi superiori, le quarte e le quinte, potranno godere di gite di istruzione per un massimo di tre giorni, ma non di più. Ieri si è inaugurato un bellissimo spazio gioco nel quartiere del Poderino. Si tratta di un'iniziativa di Apito, presa in collaborazione con l'associazione Vivere il Poderino, la Caritas parrocchiale di San Pio Decibo, la Caritas Giocesana e il Paese dei Balocchi. Si è voluta realizzare un'iniziativa di integrazione per i bambini ucraini, ospiti nel nostro territorio, e bambini residenti a Fano, sia quelli fanesi, sia quelli che provengono anche da altri paesi. Una bella iniziativa che d'ora in avanti si protrarrà ogni martedì e ogni sabato, dalle 16 alle 18, appunto, nell'area gioco della sede, diciamo, del giardino, ecco, della sede dell'associazione Vivere il Poderino nella zona della scuola media Nuti. Oggi anche un'altra bella iniziativa, insomma, sono tutte belle queste iniziative. In teatro, alla fine delle esibizioni, suoneranno insieme a 500 studenti. È un'iniziativa che è stata assunta nel quadro della giornata internazionale del Gets. Ebbene, questa mattina circa 500 studenti si ritroveranno nel Teatro della Fortuna, che ospita questa manifestazione. Verranno disposti in platea e sui palchi per diventare protagonisti a pieno titolo dell'evento, contribuendo all'esecuzione di due brani, imbracciando il proprio strumento. Pensate, 500 studenti che suonano lo stesso strumento e lo suonano nel quadro della giornata internazionale del Gets. Gets a Fano, sempre presente in vista poi del festival, che si terrà prossimamente nella nostra città. Gidiamo ancora la pagina e vediamo che sulla pagina di Fano abbiamo l'eco di quanto si è svolto ieri in Consiglio regionale, dove è stata approvata la legge che finanzia, diciamo meglio, gli eco-musei. Un'iniziativa presa dalla consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento a 5 Stelle, fatta proprio anche dalla maggioranza di centrodestra del Consiglio regionale, quindi presentata anche da Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia. Un'iniziativa che addirittura ha raddoppiato i finanziamenti che erano stati proposti dalla Ruggeri, portandola da 30.000 a 60.000 euro. È ancora poco, però è un primo passo importante, per poi magari ampliarlo nei mesi successivi, che permette a questa iniziativa degli eco-musei, molto importante per preservare la memoria delle nostre tradizioni, per preservare l'ambiente dei luoghi, per far sì che ci sia anche un'opportunità in più per sviluppare il nostro turismo fatta a livello regionale. Ovviamente il pensiero non può che cadere sull'eco-museo di Metauriglia, un eco-museo che è stato istituito grazie appunto alla volontà di un comitato interessato a risollevare appunto la posizione di questa frazione alle porte di Fano. E poi ci sono delle polemiche. Ci sono delle polemiche perché in Consiglio Comunale giunge il piano di fattibilità del secondo stralcio della pista ciclabile adriatica, quello che dovrà unire Ponte Sasso a Torrette. Ebbene l'itinerario viene contestato dagli ambientalisti perché è troppo vicino alla spiaggia e questo potrebbe sollevare poi dei problemi quando le marreggiate incalzeranno e infiereranno appunto sulla battigia con il rischio di danneggiare anche questa nuova infrastruttura. Ecco perché gli ambientalisti propongono una nuova alternativa. Si tratta di spostare il percorso in via Miraglio Capellini con una deviazione a Monte della Ferrovia fino a Metauriglia, in prossimità di via Buoni Incontri e poi introdurre un senso unico di marcia su queste vie. Ma probabilmente l'Aggiunta, l'Amministrazione Comunale continuerà sulla sua strada e vedremo come poi si definirà il confronto nella prossima seduta del Consiglio Comunale che è giovedì prossimo, quindi molto molto vicina. Vola per tre metri dal tetto soccorso un giovane muratore a Fossombrone. Si tratta di un ragazzo di 22 anni che si è infortunato nel cantiere edile a Isola di Fano e purtroppo è intervenuto anche, no, purtroppo, per fortuna è intervenuta l'eliamburanza Icaro che l'ha trasportato nel ospedale più attrezzato di Torrette di Ancona. Ieri sera le ultime informazioni hanno confermato che il malcapitato però non è in pericolo di vita. Per fortuna, insomma, se la caverà. E poi vediamo che sempre a Fossombrone sono stati trovati simboli nazisti a scuola, fatto molto molto preoccupante, una memoria oltraggiata. Si tratta della Mercantini che è stata imbrattata anche con la targa per i giusti. Il sindaco ha commentato, è un gesto gravissimo, il sindaco Massimo Berloni. E vediamo qui nelle fotografie gli imbrattamenti che sono stati effettuati da qualche sconsiderato. Sulla pagina di Senigallia vediamo invece che ci sono nuove attrezzature per quanto riguarda l'ospedale, in modo particolare per il reparto di gastroenterologia. di gastroenterologia, scusate, ci sono buone notizie a questo proposito, dove è arrivato finalmente un nuovo endoscopio, oltre a un medico da inserire in pianta organica. E sappiamo quanto ce n'è bisogno di questi medici. Il reparto, infatti, pur essendo rimasto sempre regolarmente aperto per le visite e l'attività ambulatoriale, non ha ancora ripristinato i posti letto per la degenza, appunto per carenza di organico. E questa figura in più potrebbe avvicinare i tempi in cui si ripristina l'attività normale. Caritas raccolta fondi per aiutare la piccola Giada. Ha bisogno di poter frequentare dei laboratori per non regradire. È una piccola che ha bisogno di sostegno partecipando ai lavori di gruppo e quindi c'è un aiuto concreto che viene dato a questa piccola ragazza. Vediamo anche la pagina di Pesaro, del Corriere Adriatico, anzi partiamo da quella delle Marche, perché c'è una notizia consolante. Bisogna prenderla però con le molle, perché di queste notizie consolanti sono apparse parecchie in questi ultimi tempi sui giornali. Sembra comunque che sulla Fano Grosseto ci sia stata una svolta. Infatti il Ministero ha approvato la progettazione del raddoppio delle corsie previste inizialmente a due, portate quindi a quattro della Fano Grosseto e anche il raddoppio della Galleria della Guinza. E il Presidente Acquaroli e l'Assessore alle Infrastrutture Baldelli hanno annunciato ieri la progettazione del secondo traforo della Guinza. È stata accolta la richiesta al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'opera ferma da anni. La regina delle incompiute quindi potrebbe essere ad un punto di svolta, grazie appunto quanto deciso dal Ministero delle Infrastrutture, che ha autorizzato l'ANAS ad anticipare le risorse per la progettazione della seconda canna della Galleria della Guinza e il completamento del tratto della Fano Grosseto a quattro corsie fino a Mercatello sul Metallo, fino a Mercatello Ovest. Quindi speriamo che questa volta ci sia indirizzati sulla pista buona, anche se i tempi non vengono ancora decisi. Operazione Passaggi a livello. Altri 2 milioni per eliminarli. Nelle Marche sono oltre 70. Procedono dunque i lavori per la messa in sicurezza dei tratti della ferrovia regionale. Saltiamo l'articolo che riguarda la polemica che si è incentrata su Mangialardi. Ieri nel Consiglio regionale possono fare quasi tre ore di discussione per mettere sotto accusa il capogruppo del Partito Democratico. E ci fermiamo invece un attimo su quanto accade su dei palazzi molto importanti dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista edilizio di Pesaro. Palazzi del Centro Storico, primi incarichi per i progetti. Parte la corsa ai fondi delle PNRR. Il Comune dà la precedenza al recupero di tre importanti contenitori sono Palazzo Mazzolari, Palazzo Almerici e il San Domenico. Su piatto c'è un investimento di oltre 250 mila euro ma ovviamente servirebbero ancora maggiori risorse. Per quanto riguarda il teatro invece spuntano altri 80 mila euro ma è una vicenda gravissima secondo le opposizioni il fatto che i lavori si protrarranno oltre le scadenze patuite. Ci sarà poi in Consiglio Comunale oggi una discussione su questo tema e soprattutto piange e soprattutto fa piangere fa dispiacere il fatto che il ROF quest'anno non si possa tenere ancora una volta dentro il teatro Rossini che è un po' la sua sede naturale. Abbiamo visto che potrebbe essere decentrato a Fano, Urbino insomma, nelle altri centri della provincia. Patto di programma per la fase operativa e vediamo qui in questo articolo di nuovo all'assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli che ha firmato con il Comune di Pesaro Lasur e Marche Nord un atto sui trasferimenti dei servizi per quanto riguarda l'ospedale di Muraglia Biancani del Partito Democratico insorge, dice si è perso tempo e sono stati tolti 90 milioni. Comunque per passare alla fase operativa per costruire l'ospedale di Muraglia forse non ci si riuscirà nemmeno entro questa tornata amministrativa la Regione Marche attende dal Comune di Pesaro dall'Asur e dall'azienda ospedaliera Marche Nord la firma dell'accordo di programma volto a rimuovere le interferenze logistiche nell'area già occupata da edifici e servizi sanitari occorre sgomberare tutta l'area per poter ricominciare a progettare di nuovo. Ricariche ultraveloci per i mezzi elettrici sono state scelte sette nuove aree per le colonnine HPC si incentiva appunto il trasporto con le fonti alternative in questo caso con l'energia elettrica è stata approvata una delibera a Pesaro che dà via libera alla nuova tecnologia ed è imminente l'avviso pubblico per le società interessate. Ancora sulla pagina di Pesaro vediamo la cronaca purtroppo dobbiamo riferire di un fatto molto molto drammatico c'è stato un carabiniere che si è suicidato a Pesaro si tratta di una cinquantenne si chiamava Andrea Giommi ed era il papà di due figli l'appuntamento stava l'appuntato scusate stava per iniziare il turno il proprio turno nella stazione di Borgo Santa Maria quando si è rinchiuso nella sua camera si è puntato la pistola alla tempia e si è sparato e qui è stata aperta un'inchiesta tra il dolore dei superiori e dei colleghi era un militare esemplare il gesto appare inspiegabile altre notizie di cronaca vediamo un bimbo in minimoto che danneggia il campo ci aveva piantato l'erba medica il proprietario il ragazzino con la moto stava rovinando gli steli cosa ha fatto ha preso la moto il proprietario ha scaraventato dentro una scarpata poi ha preso il bambino l'ha portato alla madre la madre per tutta risposta l'ha denunciato e la cosa finirà in tribunale e poi abbiamo un furbetto del reddito di cittadinanza non aveva denunciato la proprietà di uno scooter acquistato dopo appunto che aveva avuto il sussidio per il giudice non c'è dolo e quindi è stato assolto apriamo anche il corriere adriatico sulla pagina di Fano dove abbiamo le dichiarazioni del sindaco in merito alla bella notizia che alcuni imprenditori della città anzi i due grandi imprenditori Paolo Andreani e Giancarlo Paci hanno acquistato l'ex zuccherificio ancora non si sa che cosa ci vorranno fare comunque il sindaco Seri ha lodato questa impresa finalmente si risolve una questione annosa e ovviamente toccava ai privati risolverla perché la proprietà era appunto di una società privata che poi è fallita e tutto il resto e poi c'è una risposta dell'azienda ospedaliera per quanto riguarda le critiche che ieri sono state evidenziate sui giornali per quanto riguarda una facilità una troppa facilità di accesso all'ospedale senza controlli in realtà questi controlli dice l'azienda ospedaliera esistano e anche se non c'è la sbarra anche se la sbarra non funziona non viene abbassata ci sono però le videosorveglianze e il personale che controlla quanto sta accadendo ieri si è inaugurato un bellissimo spazio giochi a Poderino abbiamo visto anche sul Corriere Adriatico qui sul resto del Carlino si evidenzia appunto questa bella impresa fatta per integrare i bambini ucraini presenti nel nostro territorio con gli altri bambini quelli residenti quelli altri provenienti da altri paesi e poi anche qui si parla di eco-museo la legge c'è eppure i soldi esulta Metauriglia con il suo orto di mare orto di mare che è salito da ribalta proprio in questi giorni con la festa del cavolo una bella iniziativa che ha avuto successo a Metauriglia vediamo ancora la pagina di Ponte Sasso dovete davvero volete qui una ciclabile è l'interrogativo che viene sollevato dagli ambientalisti in merito all'intento dell'amministrazione comunale di realizzare il secondo stralcio della ciclovia adriatica nel territorio comunale di Fano proprio al limite della spiaggia il tracciato va realizzato su via Capellini con deviazione a monte della ferrovia fino a Metauriglia appunto è la proposta degli ambientalisti e poi invece a terra roveresche nasce un centro diurno per gli anziani non autosufficienti frutto dell'accordo tra il comune di terre roveresche la parrocchia di San Maurizio e la fondazione articolo 32 la location individuata e la casa Don Remo Bianchi di proprietà della parrocchia i suoi servizi si rivolgeranno prevalentemente agli anziani in condizioni di fragilità quelli inseriti in un contesto familiare per i quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente oppure troppo difficoltosa insomma anche la famiglia non riesce ad avere una cura appropriata per queste persone e quindi devono essere assistite in modo più conveniente ecco perché nasce questo centro diurno dedicato a persone sole o a rischio di emarginazione eppure agli anziani con un decadimento cognitivo lieve non proprio quelli in preda all'Alzheimer ma quelli insomma che cominciano ad essere un po' svagati l'agricoltura soffre lo vediamo qui nella pagina di Urbino almeno dateci l'acqua è una richiesta del sindaco Gambini presidente di Terra Bio il quale rilancia l'allarme i prezzi dei prodotti sono saliti alle stelle serve un bacino nuovo per irrigare questo è quanto richiede non solo Urbino ma lo richiede un po' tutto il territorio a questo punto vediamo le pagine pesaresi sul resto del Carlino e vediamo come viene evocato anche le nuove vengono evocate le novità per quanto riguarda l'affano Grosseto che comincia a viaggiare verso le quattro corsie e poi verso la seconda canna della guinza e qui vediamo la fotografia della conferenza stampa che c'è stata a questo proposito con l'assessore Francesco Baldelli e poi abbiamo Acquaroli e Nardo Goffi Ferrovia nessuna guerra a Pesaro ma sul rientro a Fosso sei ore dico no parla sempre l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli dice lavorerò per un risultato compatibile col nostro territorio e poi tende la mano al sindaco di Pesaro Ricci sono favorevole all'arretramento dice ma serve farlo anche a Fano perché altrimenti sarebbe un progetto insufficiente un progetto che creerebbe più danni che benefici al territorio tempi lunghi per il nuovo ospedale di Muraglia l'abbiamo visto come difficoltà burocratiche in merito all'accordo del programma a merito alla realizzazione dell'accordo di programma vediamo appunto che destano ancora lungaggini per la realizzazione di questo progetto che viene atteso da tutto il territorio teatro Rossini fuori uso per il ROF Palacio il piano B sarà lo sperimentale il sovraintendente del ROF aspetta notizie ufficiali dalle comune per ora dice su quello che ho letto sul giornale ma intanto riflette sulle soluzioni alternative l'obiettivo è che il festival resti tutto in città secondo appunto il sovraintendente del ROF a meno che non ci siano gli spazi necessari per cui debba essere decentrato in maniera obbligata ed ecco la pagina di cronaca il carabiniere entra in caserma e si uccide e si tratta di Andrea Giomi 50 anni aveva appena preso servizio a Borgo Santa Maria si è sparato con la pistola di ordinanza era nato al porto facile da conoscere ancora più facile essere gli amico dicono appunto i suoi conoscenti per la sua spontanea propensione alla condivisione al lavoro era sempre ineccepibile insomma anche un ricordo molto molto diciamo così bello per quanto riguarda la scomparsa di questo milite e poi altra notizia di cronaca al centro pagina aggredì un buttafuori con un manganello quattro mesi a un 27enne vadese quattro mesi di reclusione sono stati inflitti dal tribunale di Pesaro ad un macedone di 26 anni di Sant'Angelo in Vado che il 25 novembre del 2018 aveva aggredito o almeno tentato di aggredire un buttafuori fuori del locale M3 di via Ponchielli e poi è simpatica questa notizia simpatica per modo di dire perché gli rubano la macchina e poi gliela riportano sotto casa qualche ora dopo è successo domenica pomeriggio a Soria il tempo di parcheggiare scendere di corsa e poi tornare alla vettura ma aveva lasciato però le chiavi sul cruscotto e la vettura non c'era più era sparita insieme alla borsa che si trovava all'interno e poi alla sera al pomeriggio si ritrova la macchina sotto casa la borsa però non c'era più la banda delle bancarelle borseggia raffica al mercato fate attenzione borseggia raffica ieri mattina al mercato settimanale a Pesaro almeno tre le denunce di furto di borse e portafogli il valore complessivo del bottino ammonta qualche centinaia di euro pochi soldi però insomma fa sempre dispiacere quando accadono queste cose Marche Multiservizi tira le somme il 2021 porta un utile di 13 milioni è stato approvato il bilancio dell'azienda dei servizi oltre 33 milioni di investimenti ha detto Mauro Tiviroli che è l'amministratore delegato della società di cui 21 di questi 33 milioni destinati al potenziamento del sistema idrico un'annata dunque di risultati positivi per Marche Multiservizi che ha un valore di produzione intorno ai 136,4 milioni di euro con un risultato pari a 45,4 e un utile netto di 13 milioni di euro quindi questo riconferma l'efficacia della gestione operativa appunto dell'azienda e poi torniamo sulla pagina di Fano che abbiamo già letto e quindi possiamo concludere la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento per le notizie del giorno alle 20.30 sulle Occhio alla Notizia il Tg condotto da Simona Zonghetti noi invece ci risentiamo domani alle 7 per la nuova rassegna stampa questo è tutto a risentirci a risentirci